Agroalimentare Toscano vietato, mollare, Regione e Camera di Commercio rinnovano e integrano un accordo triennale che da quest'anno a 2023 le vede affiancate, come di consueto ma in maniera ancora più robusta, nella programmazione di iniziative ed eventi per la promozione dell'agroalimentare toscano di qualità e per l'internazionalizzazione delle imprese impegnate su queste filiere. Non rinunciare alla possibilità di dare alle nostre aziende, alle nostre eccellenze, la possibilità di incontrare i mercati internazionali che tanto sono attenti ai prodotti di eccellenza della nostra regione. La Camera di Commercio mette a disposizione il know-how della propria azienda speciale Promo Firenze. Stiamo raccontando di fatto alle imprese cose che noi diciamo sempre, dovete cambiare, dovete cambiare, dovete cambiare, la domanda è cambiata, è cambiata il consumatore, è cambiata il modello, dobbiamo convivere con questo virus. Penso che prima di tutti noi come Camera di Commercio e le nostre strutture dovevano dare una risposta, quindi farlo in proprio. Importante non arretrare sul brand toscana con tutta la potenza di fuoco necessaria per presidiare il mercato, anche mancando la presenza il buy wine. Per esempio quest'anno spedisce degustazioni in tutto il mondo. Vediamo la possibilità ai buyer di degustare il prodotto dell'alta qualità e dell'eccellenza delle nostre aziende toscane, perché è quello che noi dobbiamo fare.